L'avvocato Donatella di Cesare sta seguendo da vicino le vicende delle famiglie che vivono negli alloggi popolari di Campo a Mare sollecitando direttamente l'Ater con cui però si fa fatica ad aprire un dialogo di confronto. La situazione è grave e tra l'altro nonostante la grande disponibilità e capacità poi degli assegnatari degli alloggi a rendere l'ambiente più vivibile e il più consono per le esigenze di ciascun occupante nonostante questo poi è impossibile in realtà poter vivere in maniera ordinaria, normale io non dico egregia ma sostanzialmente una casa dovrebbe rappresentare il ricovero per tutte le famiglie un ricovero nel quale le persone comunque devono sentirsi a proprio agio ecco qui tutto questo non avviene, gli inquilini sono completamente abbandonati a loro stessi sono obbligati ad autogestirsi in condizioni anche sociali eccessivamente precarie Posevo dire che viene violentata la dignità di queste famiglie? Assolutamente sì, da dove comunque le istituzioni non rispondono e non riescono a dare non riescono a rispondere con un'attività seria, effettiva, concreta anche di programmazione per carità perché nessuno si aspetta che domani mattina queste palazzine tornino nuove ed efficienti ma almeno una manutenzione ordinaria che possa consentire un vivere civile Ma come si fa a non rispondere a un cittadino che chiede la sostituzione da giugno della caldaia che in pratica abbiamo visto non funziona? Al telefono non risponde nessuno? Al telefono non risponde mai nessuno, diventa impossibile poter relazionarsi se non si prende poi effettivamente la macchina non si va direttamente a Teramo ma anche lì è complicato perché fondamentalmente c'è una persona che quando risponde se risponde non riesce mai a dare una risposta concreta Una class action quali risultati potrebbe dare? Ma io direi che in questo caso gli inquilini potrebbero immaginare di potersi organizzare per poter avere delle risposte effettive non arriverei a una class action ma sono convinta che se si riuscisse a trovare un vero nucleo di forza tra gli inquilini e tra gli occupanti si potrebbe cominciare a ragionare per una vera e propria programmazione